Il risultato negativo per la Pistovese, peccato c'è quel calcio di rigore che ancora pesa molto sulla gara. Questo 2013 era finito molto bene, il 2012 contro il vittorio è un pareggio e adesso siamo partiti un pochino col freno a mano tirato, credo che oggi abbiamo fatto tutto per vincere la partita, abbiamo anche giocato dal ventesimo al quarantacinquesimo un ottimo calcio e purtroppo non è bastato per vincere la partita. Buono all'esordio di Roberto Floriano, almeno una delle poche notte positive oggi. Devo dire la verità, le note positive dal punto di vista del gioco ci sono state, rispetto anche a altre prestazioni mi ha fatto molto bene, secondo me dal ventesimo rispetto al quarantacinquesimo si è andato a rivedere la partita, c'è stato un ottimo gioco, bellissimo gol, un ottimo gioco, trame diverse, la Pistovese sta cercando di puntare, è cambiata, non è più la Pistovese di prima, non può più stare col baricentro basso, non ha più la difesa di prima, ha un attacco migliore e quindi cerca di mettere in luce un pochino più il suo attacco e quindi c'è una mutazione che porta un po' di... È riuscito a creare alcune occasioni da gol veramente buone, però ecco non riesce a dare continuità, come mai? Siamo leggeri molto probabilmente, siamo leggeri, siamo una squadra leggera, una squadra molto le tre partite, non solo fisicamente probabilmente, noi siamo una squadra costruita per altri obiettivi rispetto alla Massese, credo abbiamo fatto un primo tempo brutto dove siamo stati anche timorosi al cospetto di una squadra che stava giocando veramente bene, però loro non hanno chiuso la partita e il secondo tempo credo che abbiamo avuto due barra tre buone palle per poter pareggiare, non ci siamo riusciti e dopo la Massese è risalita fisicamente e poi c'è stata l'espulsione che ha condizionato il gioco a parte d'ora che probabilmente non è servito per risultato finale, però è servito perché ci manca un giocatore e probabilmente l'espulsione sembra un po' viziata da un precedente fallo di Taddeucci, però prendiamo questi tre gol, andiamo avanti e cerchiamo di migliorare dove possiamo. Domenica mancherà Polvani e forse anche Barciotti, vi presenterete così a Lucca? Polvani per noi è il 94 fondamentale, un ragazzo che ha migliorato tanto, Samuele per noi è il giocatore che ci dà qualcosa in più, non ce l'abbiamo, facciamo di necessità virtù, giochiamo con quei ragazzi che abbiamo e credo fino a oggi abbiano meritato, meritano tutti gli elogi che si possono fare perché credo che stiano facendo un grande campionato anche chi ha giocato magari un pochino meno. Dare la classifica? La classifica la guardo a marzo, io penso mi guardo una vittoria fino a martedì, poi da martedì si preparava a partire con il tutto cuoio, è una squadra fortissima che secondo la classifica. Qual è il limite di questa squadra, se di limite ci puoi chiamare che non è stata cattiva nel chiuderla prima? Ma è cattiva, quando vinceremo fuori casa ci siamo trovati, ci siamo trovati che al primo tempo potevamo fare di più, ci siamo d'accordo, però ci sono anche gli altri, il campo non c'è stato ascoltato un rigore clamoroso, purtroppo a noi i rigori non ce li danno mai, non ci hanno fischiato un rigore a favore eppure attacchiamo molto. Andrea Benedetti è il mister di questo Ricciore, un Riccione che porta via un buon pereggio qui a Pistoia, potevi fare forse qualcosa in più? Sì, perché i primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene, alla prima occasione che hanno avuto abbiamo concesso il gol, siamo stati un pochino disattenti in quella situazione, dopo da lì in poi fino alla fine del primo tempo abbiamo un po' sofferto, abbiamo perso un po' le distanze e abbiamo agevolato i loro giocatori di qualità che hanno, però poi secondo tempo ci siamo difesi bene, abbiamo concesso poco, ora io dalla mia posizione non ho visto bene il fallo da rigore se c'era o no, però penso che sarebbe stata una punizione eccessiva, per quello che si è visto in campo penso che alla fine il risultato sia giusto e per noi è un ottimo risultato. Davanti sei ben coperto, Bufalino Cosa, anche se sono fra virgolette anziani, 183 gol, Vincenzo Cosa, insomma anche oggi in gol? Sì sì ma lo sapevamo, l'abbiamo preso apposta, ecco è il giocatore come caratteristiche che ci mancava, sapevo del passato che ha avuto, ecco anche oggi l'ha dimostrato, è un giocatore che vede molto bene la porta e l'ha dimostrato anche oggi sul gol che ha fatto. Nella nostra trasmissione è calcio toscano, calcio giocato, il Riccione oggi ha ripreso il Rosignano. Sì è stato un risultato importante, ecco peccato perché se eravamo un po' più attenti il primo tempo probabilmente potevamo chiudere prima parte dei giochi in vantaggio, poi per loro sarebbe stato ancora più difficile, però ecco è un ottimo risultato e andiamo avanti su questa strada. Grazie a tutti!